3, 2, 1, start! In bianco e nero Ma c'è ma ora che sei stato indietro insomma No, sei stato indietro indietro Ormai posso fare robe tipo Insomma niente di speciale Poi abbiamo Caio Ciao, sono Caio e io faccio i montaggi dei video Quindi cosa fa? Io praticamente taglio le scene e taglio la barba Bravo, ci sa fare ragazzi Servirebbe anche a tagliare Almeno me la tagliate Ultimo ma non meno importante il nostro cameraman Come potete non vedere non ha né la webcam né il microfono Ma c'ha il microfono ed ecco la sua risposta Falco con Camera Zero Films cosa ne pensi? Sono anche anche di film makers, artisti, talentuosi Faremo grandi robe Trovamo ed è un ottimo inizio Ma andiamo dritti al punto di questo video Avrete visto il passo e la voce E se non li avete visti mai Malissimo Se avete visto questi video Saprete che per imparare il passo Bisogna vedere la mappa Voi non ce l'avete Ma avete questo video Vi spiegheremo il primo esercizio da fare Per poter imparare il passo L'avete già visto nel primo episodio Ma vi spiegheremo passo per passo Come arrivare al passo passo per passo Passando per il passo Quindi via con il tutorial Maestro dobbiamo spiegare a tutti Come fare il primo esercizio per imparare il passo Non esiste nessun passo Ma l'hanno visto tutti su Youtube Maledetto Youtube E sia Diamo inizio a L'addestramento Ebbene sì Quindi stendete le vostre braccia Alzate una gamba Che andrà a spingere la mano che sta sotto Questa volta colpirà la mano superiore Che a sua volta ancora colpirà la vostra testa Spingendola indietro Fino a quando questo movimento farà scattare il meccanismo inverso Facendovi ripetere la combinazione del passo all'infinito Bene avete visto il tutorial E ora dovete prendere la vostra videocamera E farvi un video in un posto caratteristico della vostra città Dove fate quello che vi abbiamo appena spiegato Esatto Proprio questo E poi lo mettete come video di risposta Qui sotto Se lo fate potreste comparire nel terzo episodio Però dovete farlo bene con un sentimento Vale dirvi dal cuore Ricordiamo inoltre che se non avete ancora visto il primo o il secondo episodio di Tanto Per Avete il link per il primo episodio e il link per il secondo episodio Ehm... Praticamente... Aspettiamo i vostri video Se volete iscrivervi Scrivete qui Qui, qui Cliccate qui Dove è l'escrizione? Qui, qui E qua, no? Qui No Mi direbbe che iscrivo per iscrivervi Cliccate Vanno da qui ahahahahah chill tat nah la ha la 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 il è ora le grazie a la grazie alla